Musica Applausi Fu Television Italia, Merion, siamo qui a presentare uno spazio dedicato all'arti marziali Stasera qui con noi abbiamo lo Shaolin, direttamente dalla scuola del Monaco Shaolin Xi Yanhui da Roma, a rappresentarlo il maestro Francesco Bedogni e la loro scuola Applausi Prego maestro, allora spieghiamo che cos'è lo Shaolin Lo Shaolin appunto, siamo direttamente collegati con il tempo tramite lui Lo Shaolin è un'arte marziale tradizionale cinese Che non ha limiti di tempo, nel senso si può come i bambini che sono qui che dimostreranno dopo Da giovanissimi fino a tarda età Lo può praticare È una disciplina che serve per la crescita interiore Più che una disciplina di violenza e combattimento Che non ha nulla a che vedere con quello che è la nostra filosofia Che non ha? Che non! Che non c'è Che non! Ciao! 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 Ciao, ciao, ciao! Grazie.